L'Associazione Nazionale Alpini vanta tra i propri soci Marta Bassino. L'alpina sciatrice dell'esercito italiano è infatti iscritta al gruppo di San Dalmazzo, sezione di Cuneo, dove è nata, cresciuta e tuttora vive, condividendo i valori dell'Associazione Nazionale Alpini tramandatili dal papà Maurizio. Lui ha fatto l'alpiere e ogni tanto ci racconta quegli anni lì, delle esperienze vissute di quel suo periodo. Graduato scelto Marta Bassino è entrata a far parte del Centro Sportivo Esercito, giovanissima. Io sono entrata che avevo 17 anni e quindi ero proprio piccolina e poi ero andata giù, avevo fatto il concorso e poi mi avevano comunicato che sarei entrata a far parte dell'esercito. Il cappello alpino per me rappresenta la montagna a tutti gli effetti. Secondo Genita, fra due fratelli maschi, Matteo e Marco, Marta, quando gli altri bambini più o meno iniziavano a correre, impostava le prime curve a spazzaneve con un insegnante speciale, il papà Maurizio, maestro di sci, ed un sostegno unico, quello di mamma Elena. Sì, ho iniziato prestissimo perché i miei genitori hanno questa grande passione, mio papà è allenatore, quindi hanno sempre avuto la passione della neve e della montagna in generale. Mio papà in modo più diretto, soprattutto il mio inizio di carriera negli anni più piccoli, da bambina, categoria ragazzi allievi, fin l'anno che sono entrata in comitato, perché mi allenava lui, e invece da quando poi sono entrata in comitato e poi nelle squadre nazionali è come se mi avessero lasciato nelle mani degli altri allenatori, che sono stati un po' poi le mie guide degli anni dopo. Ma nella vita di Marta non vi è stato solo ed esclusivamente lo sci. L'atletica leggera, il nuoto, i tuffi, la ginnastica artistica hanno riempito i suoi pomeriggi da bambina. Sì, ho fatto ginnastica artistica fin da piccola, fino al periodo delle medie, poi tra la ginnastica, la scuola e lo sci non riuscivo più a conciliare e a fare bene tutte e tre le cose, quindi avevo lasciato la ginnastica per dedicarmi alla scuola e allo sci. Io sono stata contentissima di aver fatto quegli anni lì, mi piaceva un sacco, e penso mi abbiano aiutato anche proprio nel mio percorso, proprio a conoscere il corpo, i movimenti nello spazio, è tutto proprio una base a livello fisico. Solo più tardi Marta capisce che lo sport che la fa divertire e allo stesso tempo ottenere ottimi risultati è lo sci. Una crescita graduale dalle prime gare con lo sci club a far parte della squadra del Comitato Fisi Alpi Occidentali, dal passaggio alla Nazionale B a quella per i mondiali New Yores e come detto nel 2013 l'arruolamento nel centro sportivo esercito, un impegno costante che l'ha portata a gareggiare e lasciare dietro a sé i grandi nomi dello sci odierno. Vedo il mio percorso molto proprio graduale, che mi ha portato a essere la persona che sono adesso, perché di anno in anno ottenevo risultati, cioè buoni risultati, quindi magari sono entrata in squadra C, poi in squadra B, poi in squadra A, in Coppa del Mondo, della Coppa del Mondo ho iniziato ad avere sempre più buoni risultati e quindi mi ha portato un po', cioè come tutto gradualmente a vivere quello che ho vissuto. Chiaro che da bambina sei lì, guardi le gare di Coppa del Mondo e magari ti immedesi, mi dici chissà un giorno. Io ho sempre ammirato tantissimo l'Anna Fait, oppure un'amica Ela Schifrin, che comunque sono arrivata e loro erano già lì, cioè io ero piccolina e vincevano già tutto, quindi ovviamente guardi quelli più grandi, più forti e tutto, e quindi cerchi poi man mano di rubare qualcosina da uno e dall'altra per cercare di metterlo nella tua sciata e arrivare sempre più su. Risultati ottenuti grazie ad un grande lavoro fatto di sacrifici, impegno, professionalità, perché la vita dell'atleta non è semplice, allenamenti, trasferte, rigore e disciplina. Sono un'atleta, quindi mi alleno tutti i giorni per cercare di dare il meglio di me, di mostrarlo poi nelle gare. L'estate, con la preparazione atletica, quindi una preparazione a secco, per preparare tutto quello che sarà poi l'allenamento e le gare e la stagione invernale. Porsi obiettivi e organizzare la propria vita per raggiungerli. Ecco cosa ha insegnato lo sport a Marta Bassino, fin da bambina. Coniugare gli allenamenti e le gare quando ancora sedeva tra i banchi di scuola non è stato semplice, ma lei ci è riuscita, adottando quelle regole che ancora oggi applica alla vita di tutti i giorni. Io penso che comunque una vita sportiva, una vita di gare o cosa, ci aiuti a organizzarci, a svegliarci, a imparare proprio a cavarsela in tutti i casi. E di conseguenza quindi anche quando sei a scuola è come se fossi molto più veloce, cioè ti organizzi il tempo, sai che hai un po' di tempo per studiare, un po' di tempo per allenarti e quindi impari proprio a organizzarti la vita. E poi c'è la testa, l'allenamento che non si vede ma che è fondamentale quando si raggiungono certi livelli. La testa fa tanto, specialmente poi nel momento in cui arriviamo e mettiamo fuori i bastoni dal cancelletto, che è il momento proprio della gara. Noi abbiamo questi praticamente pochi minuti per dimostrare tutto il lavoro che abbiamo fatto prima e quindi metterci alla prova. Io ho notato proprio negli anni che alla fine bisogna essere, nel mio caso, nel mio sport, preparati fisicamente, preparati tecnicamente, quindi saper sciare e la testa poi deve funzionare bene perché comanda il tutto. Ecco perché, quando può, Marta stacca la spina, se ne va in montagna, a camminare, a vivere quei luoghi che le ricordano le giornate trascorse con la famiglia, dove riesce a ricaricarsi, a ritrovare se stessa, a riossigenare mente e corpo per tornare, più in forma che mai, al cancelletto di partenza. Una vita fatta di sci e di montagna con tanti obiettivi ancora da raggiungere e un futuro in cui non possono mancare i valori veri, profondi, che solo una ragazza dei sani principi, quale è lei, non può non vedere nel proprio futuro. Tra 30 anni io sinceramente spero di vedermi con una famiglia e dei bambini, prima di tutto, e poi penso che comunque il mondo della neve è parte della mia vita e quindi sicuramente sarà qualcosa legato a quello, però vabbè adesso intanto ho questi anni qui ancora di carriera per fare le gare e poi un domani ci penserò. Grazie a tutti.